ciao ciao ragazzi complimenti al catanzaro veramente ho appena finito di vedere la partita sul tiro catanzaro seconda vittoria esterna consecutiva lo pomarassi 18 punti in nove partite due punti di media partita terzo posto in classifica solitario per una neopromossa ve l'avevo detto che catanzaro sarebbe stata una squadra tostissima che avrebbe dato il filo da toccere a tutti meritatissimo questo posto in classifica questo terzo posto in classifica squadra che gioca bene sa quello che vuole fare mille tifosi a seguito ragazzi da catanzaro a tirol ragazzi ma ci rendiamo conto complimenti catanzaro che va a spugnare un campo rognoso una squadra che va affrontare e battere una squadra rognosissima come il sul tirol oggi sul tirol ha giocato male male soprattutto primo tempo meglio nel secondo si è sentita soprattutto l'assenza in casi raghi sei gol in campionato infatti per lui catanzaro che praticamente non ha avuto grandissime occasioni ma comunque ha fatto dal suo possesso palla il loro il loro punto forte soprattutto nel primo tempo squadra sempre che schiacciava l'avversario con difensori a metà campo pressing alto scambi veloci tra attacco e difesa ottimo van de putte gol spettacolare di pietro jemmello veramente complimenti complimenti al catanzaro e se continua così veramente io l'avevo messa nona un pelo al di fuori della zona playoff e se continua così veramente nei playoff ci può arrivare veramente 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 complimenti complimenti i su tirol si conferma secondo me una squadra comunque sempre rognosa difficile da affrontare che non fa del possesso palla il suo pezzo forte ma si chiude e riparte secondo me farà un campionato po più di sofferenza rispetto di sofferenza rispetto all'anno scorso non ripeterà la nata appena passata ma comunque veramente è stata una partita non bellissima ma il catanzaro ha meritato di vincere andando vicinissimo al raddoppio anche nel proprio nelle battute finali con con donna roma quindi ha scegliato anche il 2 a 0 complimenti lo ripeto complimenti veramente mi avete fatto un'impressione bellissima qua lo zini a cremona e state continuando a mantenere questa 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 qualità diciamo qualità di squadra di squadra di squadra nota nota della giornata una nota bella della giornata a parte i mille tifosi di catanzaro andati su tirol il regalo di del capitano da su tirol taita inizio partita con un bel cestino di mele queste cose sì che sono belle ragazzi genuine fanno bene al calcio ragazzi ci vediamo domani per il post partita di como cremonese dobbiamo svegliarsi portare a casa i tre punti perché davanti corrono a mille infatti anche il palermo ha vinto a modena 2 a 0 ragazzi un bel like commento inscrizione al canale a domani